Scusi! Eh! Oh mamma! No, senta, c'è solo un piccolo problema! Saremmo rimasti chiusi qui dentro! E a me che cazzo me ne frega? No, ma non faccia cosa! Sono assolutamente presa per la roba della pettinatura di prima! Ah, no! Grazie! Lei è proprio una buona persona! Noi l'abbiamo sempre saputo! Arrivo, arrivo! Tra l'altro il pettinato così sta benissimo! No, ma vi chiedo scusa se io... che sono impulsivo, ho questo carattere anche! Ma no! E' bello avere un bel carattere deciso, che impulsivo! Forse esuberante, ecco! Sì, ci sta aprendo, grazie! Ma non si... scusi, non si apre però! Alberto! Signor Alberto? Guardi che non si... provi un altro giro! Scusi, dottore Alberto! Ma cosa... Cosa ha fatto? Ci ha chiusi dentro! Ci ha chiusi dentro! Ci apro e gli occhi diamo in ginocchio! Bravi! Vedo che state morendo con dignità! Stella! Stella! Venga a salvarci! Ragazzi, non... Mi siete molto simpatici, per carità! Mi voglio tanto bene, però... Ma cosa? Le state sempre state vicine, mi ha sempre aiutate! Ma quando? Come ma quando? Non può lasciarci codici salvi! Solo lei può! Su, su! Visto che non sa decidersi, lasciamo decidere al pubblico! Attenzione! Questo è il primo esperimento mondiale di cinema interattivo! Grazie ai sensori neurobionici nascosti nelle vostre poltrone, capteremo i vostri pensieri, sempre che ne abbiate, e potrete decidere cosa farà Stella! Uno, li salva! Due, non li salva! Tre, nuda nuda! Vince l'opzione 1, col 72% dei voti! Grazie per la cortese collaborazione! Nooo, ma non potevate scegliere nuda nuda! Ciao! Ciao!